Il 30 di giugno alla Rocca di Bazzano si ricorderà il grande Piazza Marino, poeta contadino, siete tutti invitati e invitate, l'ingresso è gratuito, tanti invitati e parteciperà anche il nipote di Piazza Marino, Marco. Adesso faremo la polca sfregatette dedicata a una via di Bologna che si chiamava via sfregatette. Piazza Marino Piazza Marino Piazza Marino E questa era la polca sfregatette dedicata all'attuale via senza nome di Bologna vicino alla porta Saragozza. Si racconta che via senza nome di Bologna si chiamasse un tempo via sfregatette e qualcuno diceva che era per i coppi che si spregavano perché era troppo piccolina. Si racconta che passò un vescovo un giorno, era vicino al portico a Casano della Madonna e dice che sozzonome diventò via senza nome.